C'è senso? Ci sentite? Ci siamo! Ciao a tutti, benvenuti, questo è Collector's Corner, il primo angolo di Cereti Stars, nel vero senso della parola, dedicato a tutti gli appassionati di cimeri sportivi. Io sono Domenico Gravagno, CEO di Cereti Stars e qui con me non poteva ovviamente che esserci Filippo Delprete, meglio conosciuto come Italian Jersey Collector, nonché, posso dirlo, uno dei più grandi collezionisti di cimeri sportivi in Italia e che da quest'anno abbiamo il piacere e direi anche l'onore di averlo tra noi nella nostra community come Band Ambassador. Grazie Filippo di essere qui, benvenuto. Ciao Domenico, ciao ragazzi, per me è un onore essere qui, quindi il piacere è tutto mio. Partiamo subito, abbiamo una maglia incredibile che non vedo l'ora di farti scoprire perché tu non lo sai, ma vedrai che veramente si tratta di un pezzo incredibile. Ed eccola qui, guarda, già dal colore so che hai capito tutto, questa va toccata con grande delicatezza e adesso capirai perché. Wow, posso dire che sono già senza parole? Questa è una maglia di Pelé indossata in un match nel 1965. Io non so se tu hai mai visto un pezzo del genere, ma è veramente incredibile. No, mi tremano le mani anche solo a sfiorarla. Posso dire che ho notato una cosa, vorrei farla vedere. Certo, vai. Perché questa è una maglia sensazionale. Tra l'altro possiamo farlo vedere anche autografata da Pelé. Questa maglia ci riporta indietro nel tempo. Nel 1965 i brasiliani erano campioni del mondo e Pelé ovviamente è stato il trascinatore di quel Brasile lì. Ricordiamoci che proprio Pelé ha fatto iniziare la storia della Sele South e sotto la sua stella il Brasile è iniziato a splendere. Nel 1958 hanno vinto poi il loro primo titolo mondiale. È vero. Quindi maglia e giocatore devastante, unico nel suo genere. Questa è una maglia preparata per il match, quindi non è mica quella che trovi nello storro che all'epoca si poteva acquistare in un negozio qualunque. Quindi è un pezzo veramente incredibile perché ha una preparazione che differisce rispetto a tutte le altre maglie dell'epoca e di quell'anno specificatamente di Pelé. Guardiamo poi anche solo la tipologia del tessuto. I loghi sono cuciti e quindi sia internamente il logo del Brasile sia il numero al suo interno cucito all'interno del tessuto. Ricordiamo tra l'altro che questa è per l'età e l'epoca e gli anni che ha questa maglia è davvero tenuta in maniera impeccabile. È chiaro, i segni del tempo ci sono, ma è giusto. Ma è anche quello che piace, no? Ed è quello che piace a noi collezionisti. Esatto. Poi, se posso permettermi comunque sia, l'autografo di pensè vale da solo il prezzo di questa maglia. È eccezionale, è vero. Te l'avevo detto che saremmo partiti forte, eh? Me l'avevi detto sì, non me l'aspettavo perché questa è una maglia unica nel suo genere. Questa è difficile da battere. È veramente una bomba, ragazzi. La trovate all'asta su Sality Stars, una maglia che fate fatica a trovare. Manca qualcosa? Eh, il marchio di fabbrica. Che dici, lo facciamo? Sei pronto? Vai. Dai. Evviva le maglie! Grazie. 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 Grazie.